Nell'anno 1949, un uomo di nome Bruno Gröning suscita un gran clamore intorno a sé. I media lo definiscono un guaritore miracoloso. Tutto inizia a Heafot, una cittadina della Westfalia. Sempre più spesso giungono notizie di nuove incredibili guarigioni. Persino coloro che sono stati diagnosticati incurabili giurano che egli possieda una forza guaritrice. Per alcuni è un messia, per altri un ciarlatano. Poco tempo dopo, l'ordine dei medici si dichiara scettico di fronte a questo fenomeno. A Gröning viene imposto un divieto a operare guarigioni in tutta la Renania settentrionale Westfalia. Gröning si ritira in Baviera per sfuggire al Trambusto, ma i media lo rintracciano. Presto, fino a 30.000 persone, si regano in pellegrinaggio al Trabahov, presso Rosenheim, e ancora una volta si sente parlare di guarigioni incredibili. Gröning finisce al centro dell'interesse pubblico. Venivano anche da New York, da ogni parte. Una volta arrivò addirittura il ministro delle colonie belga, me lo ricordo bene. E poi venivano persone ricche, americani, persino in aereo da New York. Quelli sì, avevano qualcosa da offrire. Mettevano un anello sul tavolo e dicevano, ecco, adesso portatemi da Gröning. Ma non funzionava assolutamente così. Porgevano le chiavi di una macchina. Ecco, quest'auto è tua. E a quei tempi era una vera tentazione. Possedere una macchina era impensabile. Avevamo un certo principio. Mi ricordo ancora la critica amara di una donna molto ricca. Sono venuta apposta da New York e così via. Allora le dissi, guardi signora, quell'invalido di guerra della zona orientale. Lo sa quanto tempo ci ha messo per venire qui? Per lei è più facile tornare un'altra volta da New York di quanto lo sia per lui. Voglio chiarire quale fosse l'atteggiamento di base che noi tutti tenevamo. Non potevamo fare preferenze. Sarebbe stato un inizio senza fine. Avremmo potuto approfittarne per arricchirci, certo. Le occasioni non mancavano. Un giornale di Rosenheim ci aveva affidato l'incarico di riportare in modo assolutamente imparziale ciò che faceva il signor Gröning. Dovevamo semplicemente osservare ciò che accadeva. Ma all'improvviso, il secondo giorno, arrivò la direttiva di scrivere in modo più scettico o addirittura negativo. Gröning attira ovviamente l'attenzione anche al Trabahov. Arrivano schiere di giornalisti. Tutte le volte egli si mette a disposizione per rispondere alle loro domande. Ma la cronaca, partita con le migliori intenzioni, si trasforma in una vera e propria campagna denigratoria. Appare il giornalista Conte Soltikov, il quale mira a scrivere un resoconto dettagliato su Gröning. Lo pone davanti alla scelta di scrivere un articolo positivo o negativo su di lui. Avrebbe raccolto molto materiale in un caso o nell'altro. Pretende 50.000 marchi da Gröning per non fare una cronaca negativa. Gröning rifiuta. Soltikov mette allora in pratica la sua minaccia e realizza così la prima grande diffamazione da parte della stampa. Anche l'Ordine dei Medici interviene ancora. Il presidente dell'Ordine dei Medici della Baviera, il senatore dottor Vaila, pubblica un comunicato contro Gröning. Sebbene io non abbia avuto l'opportunità di osservare una guarigione operata dal signor Gröning e quindi debba riferirmi a quanto ho riportato dalla stampa, ritengo tuttavia di essere autorizzato a esprimere un giudizio sulla natura degli eventi che si stanno verificando. Durante gli ultimi anni della Prima Guerra Mondiale, io stesso ebbi l'occasione di eseguire centinaia di guarigioni apparentemente miracolose. Le guarigioni dai disturbi psicosomatici sono ottenute anche dai medici in una moltitudine di casi, senza che per questo sia mossa l'opinione pubblica. Non so dire come i medici siano arrivati sul balcone. So soltanto che Gröning era in piedi e si teneva a distanza da loro e poi disse alle persone che erano di sotto che avrebbero ricevuto aiuto o qualcosa del genere. E poi all'improvviso uno di quei sei medici prese un microfono, eppure nessun altro aveva un microfono. Si avvicinò alla ringhiera del balcone e disse alle persone che stavano sotto cosa volete da questo ciarlatano. Quindi aggiunse cose terribili su Gröning e che sarebbe stato bene proibire tutto questo. Forse i medici locali pensavano che volesse stabilirsi lì e che questo avrebbe messo a rischio i loro ambulatori. Credo che ci fosse anche un interesse economico dietro a tutto ciò, anche se non se ne fece cenno, ma ritengo che dietro c'era questo. Quelli piccoli temevano sicuramente per la propria esistenza. Infatti, se guariva un paziente che seguivano da anni nel proprio ambulatorio e ne traevano un guadagno, è chiaro che dovessero odiare Gröning. Tutto nacque da questo dato di fatto. Era ovvio che la maggior parte dei medici non fosse contenta al pensiero, si potrebbe dire così, che ora ci fosse qualcuno a cui bastava guardare una persona e dirgli sei guarito. Quindi dissero o è un matto o è un bugiardo. Ma lui non era né matto né bugiardo. Era consapevole della sua missione. A nessuno era permesso togliergliela. Dimostrò che era possibile guarire per via spirituale. Ciò non escludeva le altre pratiche di guarigione. Omeopatia, agopuntura e tutti gli altri metodi di guarigione disponibili oggi potevano continuare a esistere. Ma Gröning diceva sempre è Dio che guarisce. Anche il documentario su Gröning girato nel frattempo viene attaccato duramente dall'Ordine dei Medici. Si alza un'ondata di proteste in piena regola. Responsabili di tutto ciò sono diverse autorità appartenenti alla salute pubblica tra le quali ancora una volta il dottor Vaila. La motivazione di chi si oppone è il forte timore che un film su Gröning possa provocare gravi danni alla salute e creare un serio disturbo all'Ordine pubblico. Il dottor Lambrecht aveva già constatato eventi simili a EFOD. Non sorprende che l'Ordine dei Medici si schieri contro questo fenomeno. è stato così in ogni epoca. Se Cristo vivesse oggi gli si proibirebbe di operare come fu fatto duemila anni fa. Gli sarebbe stato chiesto di mostrare la propria abilitazione come naturopata. I Medici sono rimasti sempre gli stessi e non hanno imparato niente. Ancora una volta è solo una questione di invidia per la concorrenza. In particolare Gröning è accusato di provocare suggestioni di massa. Le guarigioni a distanza lo contraddicono però. Domandò alle persone presenti che non avessero esse stesse infermità o malattie di pensare a un proprio parente. E questo mi indusse a pensare a mio padre che soffriva di ulcere gastriche dall'età di 18 anni e in quel momento ne aveva 49. Prima e dopo di ogni pasto doveva inghiottire dei farmaci senza i quali non avrebbe potuto vivere e perciò quel momento fu per me l'occasione per pensare a lui. e dopo circa due giorni ricevetti da mia madre una lettera nella quale mi spiegò che mio padre era tornato a casa dal lavoro non so se fossero le tre del pomeriggio o le cinque o le sei di sera e aveva vomitato. Era venuto fuori un liquido verde-giallo e questo aveva naturalmente indotto mia madre a pensare che si trattasse di Bile. È chiaro, no? Questo significa che è successo lo stesso giorno in cui ero stato al Trabahov e da quel giorno mio padre non ebbe più alcuna ulcera gastrica. Niente di niente. Devo comunque aggiungere che egli come me credeva ben poco a Gröning diciamo la verità e non si convinse nemmeno in seguito che la sua guarigione fosse avvenuta grazie alla mia presenza la da Gröning non accettò l'idea nemmeno dopo però ovviamente non si spiegava nemmeno lui perché fosse accaduto in ogni caso le ulcele gastriche erano scomparse poteva mangiare qualsiasi cosa e non assumere più alcun farmaco e come ho potuto accertare mio padre visse aspetti un momento 86 anni e non ebbe mai più bisogno di farmaci quindi niente più ulcere gastriche erano passate poteva mangiare di tutto poteva bere di tutto devo ammettere che solo in seguito restai impressionato da questo fatto finché rimasi lì sotto e Gröning parlò non mi colpì affatto solo quando vidi gli effetti sulle persone in sedia e rutelle e su quel ragazzo cieco e poi un paio di giorni dopo su mio padre allora la mia opinione cambiò radicalmente è logico no? non si può non cambiare opinione prima io no non lo voglio neanche dire come l'avevo considerato prima i fatti convincono no? io non sono uno che crede tanto facilmente prima devo vedere le cose Gröning riceve numerosissime lettere anche al Trabahov le richieste di aiuto e guarigione non cessano fra i tanti si rivolge a lui anche Katarina Gore una volta a casa dicemmo mio Dio potrebbe essere questa la soluzione giusta per lo zio soffriva da anni di una gravissima forma di mania di persecuzione la cui causa risaliva forse alla prima guerra mondiale quando era rimasto sepolto sotto le macerie era terribile quando udiva il rombo di un aereo quando arrivava da qualche parte dall'Italia per bombardare Monaco o cose così perdeva completamente la ragione urlava si infuriava sprangava le finestre con delle assi aveva paura una grandissima paura si rinchiudeva nella sua stanza diventava sempre più strano si isolava sempre di più e quando andava da qualche parte era così strano e in parte anche aggressivo fino a quando non vuole assolutamente più uscire perciò ci dicemmo se per anni nessuno è stato in grado di aiutarlo nemmeno i medici no? avevamo persino consultato un medico che ci aveva detto se non vuole non si può fare niente non possiamo fargli un'iniezione non possiamo fargli assolutamente niente ebbene il suo caso era stato accantonato era un uomo che ora era destinato ad essere dimenticato gli passavamo i pasti apriva uno spiraglio della porta prendeva il cibo chiudeva per anni in ogni caso scrissi una breve lettera al signor Gröning descrivendo la situazione in poche parole come sto facendo adesso gli sarei stata profondamente grata se avesse potuto occuparsi di quest'uomo la lettera fu spedita e questo provocò un po' di tensione in casa chissà se avrebbero notato la nostra lettera in mezzo alle migliaia di lettere che ricevevano ogni settimana e un giorno non tanto tempo dopo credo dopo circa una settimana giunse una breve risposta il signor Gröning ci comunicava che si sarebbe occupato di mio zio e del suo caso un certo giorno purtroppo non le so più dire esattamente quale noi avremmo dovuto osservare attentamente ciò che sarebbe successo quel giorno alle ore 18 per favore osservate quest'uomo ma fatelo con discrezione in modo da non disturbare il tutto e così facemmo alle 5 e mezza eravamo già tutti lì seduti con una grande agitazione mio zio aveva una piccola stanza al piano di sopra e a un certo punto sentimmo cosa che non accadeva mai durante il giorno che apriva la porta erano forse tre o cinque minuti dopo le sei non le so dire con esattezza penso che il signor Gröning si sia occupato di lui prima di quell'ora capisce? mio zio non avrebbe mai potuto vestirsi tanto in fretta era completamente vestito indossava un abito un cappello aveva il suo bastone scese le scale andò verso la porta cosa che vorrei sottolineare non faceva più da almeno quattro anni se non di più andò alla porta che noi per precauzione avevamo già aperto uscì passò davanti alle nostre finestre e me lo ricordo ancora bene mia madre stringeva la mia mano in modo spasmodico tanto eravamo in tensione con cautela io uscii di casa per osservare cosa facesse prese un sentierino che conduceva a quella che noi chiamavamo la panchetta cioè una piccola panchina con vista panoramica sotto un faggio che fungeva da tettoia e si sedette lì in quello che un tempo era il suo posto preferito una volta quando veniva la sera ed era molto stanco allora diceva vado a sedermi sulla panchetta dei Maura il terreno su cui si trovava il cortile con la panchina apparteneva ai Maura restò lì e poi ritornò a casa io corsi subito da mia madre per raccontarglielo e piangemmo insieme e devo anche dire che oggi capisco quanto fossimo emozionate da quel cambiamento che avvenne praticamente puntuale al minuto lo ripeto mi commuove ancora oggi quando le persone più anziane lo vedevano si fermavano tutte e si voltavano perché erano anni che non lo incontravano più capisce mio Dio cosa è successo quello è proprio lo Schweizer è quello che è un miracolo e quelli che lo vedevano per la prima volta parlo naturalmente dei bambini piccoli che non lo avevano mai conosciuto allora dicevano chi è quello per noi fu come un miracolo e rimase così fino alla sua morte un uomo gentile cordiale amabile Bruno Gröning parla alla gente anche in programmi radiofonici e anche qui avvengono guarigioni a distanza sì avevo 11 o 12 anni ed eravamo sei figli io ero la penultima di sei fratelli a causa di tutti quei parti mia mamma soffriva gravemente di emorroidi e aveva sempre molto dolore e tantissimi disturbi che i medici non erano mai riusciti a curare né con pomate né con supposte le davano un po' di sollievo ma il disturbo non era mai guarito e la mamma continuava sempre a lamentarsi a causa dei forti dolori mi ricordo che avevamo una stanzetta molto piccola accanto alla cucina e io sedevo sul divano a leggere un libro mia mamma invece sedeva su un piccolo tavolino sotto il ricevitore radio i miei genitori possedevano un vecchissimo modello di radio sentivo con mezzo orecchio che un certo Bruno Gröning stava parlando alla radio e mia mamma ascoltava con molta attenzione tutta sorta alzai gli occhi e la guardai mi sembrò che fosse molto tesa e assurdamente concentrata e ascoltava intensamente e ho impressa ancora oggi la voce di Bruno Gröning che diceva non ricordo esattamente le parole venite tutti da me o qualcosa di simile io vi aiuto una frase come questa e non so perché io guardavo sempre mia mamma e lei era molto tesa e all'improvviso il suo viso divenne pallidissimo salto giù dal tavolino e mio papà che entrava nella stanza in quel momento disse cosa ti succede che hai e mia mamma disse non ho più dolori non ho più dolori devo dire che proprio quel giorno i dolori erano stati particolarmente forti e mamma disse non ho più dolori non ho più dolori e mio papà non capiva assolutamente che cosa stesse succedendo e anche io ero molto molto stupefatta perché sapevo che mia mamma fino a quel giorno aveva sempre sofferto tanto a causa di questi dolori e da quel giorno i dolori scomparvero e dopo andò anche a fare una visita medica perché lei stessa non riusciva a credere che i disturbi fossero andati via completamente e il suo medico il medico di famiglia la visitò all'intestino e all'interno lì dove aveva le emorroidi e tutto era liscio tutto era pulito tutti quei noduli tutto sparito a causa del forte attacco da parte dell'ordine dei medici anche l'atteggiamento positivo del governo della Baviera cambia la situazione diventa sempre più difficile per Gröning come a Efraud egli stesso che mai avrebbe voluto quei raduni di massa innescati dalla cronaca sensazionalistica sapeva che non poteva andare avanti così ma più complicata diventa per Gröning la situazione al Trabahov più persone gli offrono aiuto sì comparve un certo signor Meckleburg insieme alla moglie e gli fece una proposta avrebbe organizzato per lui una casa di cura sull'isola di Vangerog e furono sottoscritti alcuni contratti io non so cosa egli abbia firmato esattamente fu subito tagliato fuori per così dire tempo dopo veni a sapere che non avevano più bisogno di me perché io stavo troppo dalla sua parte ero troppo leale nei suoi confronti quindi all'improvviso scomparvero tutti e noi rimanemmo là mentre Gröning era all'isola di Vangerog nell'inverno del 49 e 50 sentimo che il signor Gröning un guaritore miracoloso sarebbe arrivato a Vangerog la notizia ci rese curiosi perché non avevamo mai sentito parlare di lui quella sera ritornando dai miei genitori camminavo sulla Sedeostrasse e mi venne incontro una marea di gente fu terribile chi sulle barelle chi in sedia a rotelle chi con le stampelle e io pensai ma dove vanno tutti questi? sì ci fu una corsa sfrenata centinaia di persone vennero giù a Vangeroghe tanto che fu ripristinato il servizio di collegamento con il traghetto nonostante la stagione fosse finita e iniziò nuova vita Otto Mekkelbock organizza una serie di conferenze con Bruno Gröning in diverse località di Vangeroghe in breve tempo diventa molto noto anche sull'isola la signora Jansen è presente con sua madre in un cinema quando Gröning tiene una delle sue conferenze incontrai Bruno Gröning quando avevo 5 anni ero affetta da un eczema cutaneo molto grave era veramente terribile mi prudeva tutto il corpo mi grattavo ovunque e questo grattarmi comportava anche scorticarmi e staccarmi dei pezzetti di carne dolori tremendi il prurito non andava via finché non mi grattavo e usciva il sangue a quel punto stavo meglio era molto penoso anche per mia madre oltre che per me è naturale se un bambino piange continuamente per il dolore si aggrappava a qualsiasi speranza le venisse presentata poi sentì che doveva arrivare Bruno Gröning un guaritore miracoloso che avrebbe aiutato tutti beh mi ci portò nel cinema c'era irrequitezza e malcontento perché lui non c'era aspettavamo già dalle 8 invece poi alle 11 e alle 12 non era ancora arrivato e così noi bambini ci addormentammo in grembo alle nostre madri poi arrivò e subito ci fu un silenzio assoluto tutti coloro che avevano difficoltà a camminare dovevano salire sul palco era il palco di un cinema e bisognava salire alcuni scalini e le persone abbandonarono le stampelle e le sedie a rotelle salirono sul palco e formarono un cerchio intorno a lui allora mia madre mi prese sotto braccio e andò sul palco insieme a me al che tutti ci guardarono sconvolti fecero posto Bruno Gröning rimase lì al centro e disse cosa vuole qui? lei non crede? mia madre rispose se non credessi signor Gröning non sarei qui quindi mi sollevò rapidamente le maniche e disse aiuti mia figlia è per questo che sono qui avevo paura e pensai oi oi allora egli si accovacciò cosicché potei guardarlo dritto negli occhi e in quel momento mi tranquillizzai pensai adesso mi aiuta quindi mi accarezzò e disse a mia madre torni serenamente a casa la sua bambina è sana e fra due settimane la porti dal suo medico per un controllo e così andammo a casa e per la prima volta dormi tutta la notte nel pomeriggio dormivo ancora senza mai muovere le braccia né grattarle due settimane dopo mia madre mi accompagnò dal medico di famiglia e lui confermò che non c'era più niente era davvero sparito tutto beh le cicatrici che ho qui sul braccio si vedono ancora è così che stavo davanti a Bruno Gröning da piccola e da queste macchie bianche si può vedere quanto grandi fossero le cicatrici vede niente mi aveva aiutato fino a quando non siamo andate da Bruno Gröning proprio così e dopo la guarigione non ho più avuto nulla tutto passato a Wang Rogge a Wang Rogge vidi personalmente un insegnante che camminava con molta fatica sorreggendosi sul suo bastone da passeggio si avvicinò a Gröning e Gröning gli parlò di qualcosa poi prese il suo bastone e cosa che mi lasciò sbigottito tese il suo braccio e con quello destro spaccò il bastone sul braccio quindi disse all'insegnante questo non le serve più il giorno dopo quell'insegnante tornò a casa con il mio stesso treno credo che andasse ad Aue non lo so due vagoni più avanti d'un tratto vidi l'insegnante seduto ovviamente andai da lui e gli domandai allegro come va adesso alla grande mi rispose tutto passato poteva camminare perfettamente non aveva più dolori alla schiena era tutto a posto sì mio suocero che era primario in un ospedale diceva sempre ci sono cose fra cielo e terra che neanche noi medici possiamo spiegare è proprio così Gröning è sempre più sotto l'influenza di Meckelbach legato strettamente da un vincolo contrattuale questo si rivelerà ben presto molto dannoso per Gröning era a febbraio me lo ricordo ancora e andai lì avevo i soldi per l'andata non per il ritorno l'albergo dove soggiornava a Vangerog si chiamava Luftbanoff nei pressi dell'aeroporto ci andai ma non trovai nessuno solo il signor Kruse quindi parlai con il signor Kruse ed egli mi disse beh non sapeva nemmeno lui come andassero con esattezza le cose allora gli disse dov'è voglio parlargli devo parlare con Bruno sì mi disse lui è nella zona di Caroline il con Meckelbach per fare delle guarigioni si scoprì che Meckelbach aveva incassato ovunque degli anticipi somme alte con la promessa che Bruno sarebbe venuto non mi accorsi subito che era un truffatore dava un'impressione del tutto normale forse aveva un viso un po' compiaciuto parlando con il seno del poi ma dico anche che aveva imbrogliato persino il fratello di mia moglie per migliaia di marchi gliele ha chiesti in prestito e mai restituiti poi venne alla luce che era un truffatore vorrei tornare sulla situazione generale in quel periodo a quel tempo tenevo un registro per annotare alcuni fatti e secondo le dichiarazioni di un ristoratore di Caroline and Seale questo manager era conosciuto anche lì per i suoi metodi estorsivi il proprietario di un mulino a vento mi confermò che quest'uomo gli aveva chiesto 500 marchi per accedere ad un trattamento da Gröning aveva accettato di pagarne 200 ma gli era stata ripetuta la richiesta di 500 marchi a quel punto era andato a denunciare il fatto alla polizia criminale di Wittmont dove erano già state messe a verbale una serie di denunce analoghe sapeva anche che in un caso Mechelbach pretese 2000 marchi per una visita da Gröning inoltre fu anche detto Gröning è il miglior cavallo della mia scuderia un tempo possedevo un milione e mezzo adesso ne avrò il triplo Gröning fa come voglio io altrimenti lo farà con le cattive Kuhlman prende troppo le difese ed è troppo leale a Gröning incontrai poi Bruno Gröning con tutta la sua scorta e il suo manager a Karolinenzil prima di imbarcarsi sul traghetto e non appena mi notarono lo tennero subito lontano da me mi passò un attimo davanti e mi disse mi tiri fuori da qui quindi spari e non mi fu più possibile avvicinarlo Mechelboach contro il quale nel frattempo sono state esporte diverse denunce si ritira con Gröning a Mittenwald intende fondare lì una casa di cura avevo una buona amica si chiamava Maria Laffentala un giorno mi raccontò una sua esperienza aveva cercato Bruno Gröning per tre settimane e alla fine lo trovò a Mittenwald era davanti alla casa quando il signor Mechelboach le aprì e le disse il signor Gröning non c'è non è qui sarebbe dovuta ritornare e a proposito aggiunse deve pagare almeno 300 marchi se vuole vederlo allora lei disse non ho denaro ma aspetto qui sino a quando non arriva il signor Gröning non si lasciò dissuadere e aspettò nel corridoio il signor Mechelboach non ne fu contento dopo cinque minuti si aprì la porta al piano superiore il signor Gröning scese da lei e le disse venga da me rimase tre ore insieme a lui fu un'esperienza meravigliosa e ricevette anche l'aiuto di cui aveva bisogno senza pagare nulla mi ripeteva spesso ma che razza di persone ha Bruno Gröning intorno a sé chiedono soldi per le proprie tasche poiché adesso lei sapeva con certezza che il signor Gröning non riceveva assolutamente niente e che Mechelboach lavorava solo per il proprio profitto questo la indignava molto gli affari disonesti di Otto Mechelboach danneggiano la reputazione di Gröning anche di fronte all'opinione pubblica Mechelboach fa visita insieme a Gröning ai bisognosi di guarigione anche a Bat Vissé qui avviene il primo contatto con Emil Kufus e sua figlia Ruth che è affetta da tubercolosi entrambi hanno perso la fiducia di ricevere un aiuto di tipo medico Mechelboach organizza un incontro con i Kufus e costringe Gröning a fare ulteriori visite a Kufus e sua figlia dobbiamo per forza fare una visita loro hanno ancora la massima fiducia in lei lo so però per come sta questa ragazza non posso aiutarla neppure io ma per questo ho già consigliato tempo fa di sottoporsi in ogni caso a un controllo specialistico perché è troppo pericoloso magari può essere ma voglio lo stesso che ci andiamo ricordi il nostro contratto se lei dovesse rifiutare di rispettarlo io la denuncerò per rottura e può costarle tantissimo se fosse lei non rischierei le garantisco che in caso di rottura le chiederò una grossa somma penso che ci siamo capiti malgrado la forte pressione esercitata da Mechelbach alla fine Groening riesce a liberarsi dalla morsa del suo manager Groening ha ragione sul caso Ruth Kufus la ragazza muore il 30 dicembre del 50 in seguito ciò avrà per lui delle pesanti conseguenze poco dopo Groening riceve l'offerta del naturopata Eugen Endalin il quale mette a disposizione il proprio ambulatorio in modo che Groening possa tenere le sue conferenze di fede sotto controllo medico Endalin aveva già inviato a Groening alcuni suoi pazienti ai tempi del Trabahov scrive a riguardo le sue osservazioni in un articolo di giornale l'anno scorso consigliai io stesso ad alcuni miei pazienti di chiedere un incontro con Bruno Groening a loro era stato detto che i metodi di cura finora noti non li avrebbero aiutati si recarono al Trabahov e poi continuarono il trattamento con me in questo modo attraverso controlli periodici nel mio ambulatorio ebbi modo di constatare che l'azione di Bruno Groening aveva permesso loro di guarire oppure di migliorare il proprio stato di salute Endalin era già un signore anziano e organizzò tutta la situazione per controllare l'affluenza delle masse ed evitare qualsiasi conseguenza giuridica i pazienti venivano prima di tutto visitati da una dottoressa che lavorava nell'ambulatorio del dottor Endalin Endalin teneva sempre una breve introduzione prima per spiegare di cosa si trattasse io personalmente ero molto scettica non riuscivo assolutamente a credere a ciò che veniva riportato sulle riviste e sui giornali e francamente volevo smascherare tutto l'imbroglio sedevo là e ascoltavo il signor Endalin che teneva la conferenza introduttiva e parlava anche di Bruno Gröning chi era cosa poteva fare quali erano le sue capacità quali esperienze aveva fatto tramite lui era tutto molto interessante e poi a un certo punto disse osservate il vostro corpo e non pensate alla malattia pensate a qualcosa di bello a qualcosa che vi dia gioia oppure pregate e allora io pensai a un'esperienza che avevo fatto il giorno prima durante il viaggio in treno avevo assistito al sorgere del sole sul lago Wörthersee e mentre avevo quell'immagine davanti a me e intanto pensavo oh com'è bello il mio paese sentì un'energia che entrava dai miei alluci e risaliva sino alla testa e poi avvertì mal di testa dolori qui al fegato e qui in questa zona e un formicolio sino alla punta delle dita percepivo il dolore esattamente nei punti in cui era la malattia il signor Enderlin spiegò che questa era lo Heilstrom cioè la corrente guaritrice e che dovevamo continuare ad osservarlo che la malattia proviene dal male e non appartiene in alcun modo all'uomo e che questo Heilstrom la spinge fuori dalla testa dalle mani e dai piedi quando giunse il signor Gröning i dolori divennero all'improvviso tre volte più intensi e lui disse il male esce dalla testa dalle mani e dai piedi mi chiesi e in che modo soffrivo di sinusite cronica da 15 anni e la suppurazione si era talmente incrostata e indurita che i medici mi avevano detto non c'è più niente da fare lei perderà le facoltà mentali la seconda malattia incurabile era una lesione epatica che avevo contratto in Jugoslavia durante il mio servizio nella guerra che mi causava un'itterizia intrattabile e dovevo controllare l'alimentazione alcuni anni dopo tornai dal medico e gli chiesi per quanto tempo dovrò ancora stare a dieta non ce la faccio più il medico rispose per tutta la vita le sue cellule epatiche sono danneggiate e non si rigenerano più quindi non riuscivo proprio a immaginare che tutto questo potesse uscire dalle mani e dai piedi in che modo la terza malattia incurabile di cui soffrivo era un'ipoglicemia che mi causava vertigini dovevo prendere 7-8 zollette di fruttosio al giorno per poter sopravvivere di guarigione non se ne parlava tutto questo non si può spiegare però si può sperimentare e io lo sperimentai così dopo la conferenza i dolori passarono all'improvviso e io ebbi la sensazione di essermi alleggerita di un peso enorme avvertì una magnifica sensazione di leggerezza e di felicità ciò che sentivo poteva essere solamente la salute allora andai da Bruno Gröning piena di entusiasmo e di gratitudine gli strinsi le mani e gli dissi signor Gröning signor Gröning ho la sensazione di essere completamente sana la ringrazio ed egli mi guardò mi attraversò tutto il corpo con il suo sguardo e poi mi disse lei non ha solo la sensazione di essere sana lei è sana però non ringrazimi ringrazio Dio è stato lui a guarirla non riuscivo proprio a capire il giorno dopo non ci fu alcun bisogno di prendere le pastiglie non ebbi le vertigini e questo per me era incomprensibile potevo fare il più grave errore nella dieta e non avevo più alcun dolore perciò volevo sapere come funzionasse il signor Gröning è solamente un essere umano come tutti noi e ciò che aveva detto era ringrazi Dio è stato lui a guarirla e in quell'istante fui certa esiste un signore Dio da allora sono rimasta sana e tutta la mia vita si è capovolta per gratitudine Grethe Heusler diventa una stretta collaboratrice di Gröning anche lei non ricadde più nei vecchi disturbi Tuttavia Bruno Gröning rimane deluso da Endelin anche egli si rivela interessato agli affari Gröning si separa da lui per truffa sui prezzi appropriazione indebita diffamazione e inadempienza contrattuale in seguito Endelin asserirà di essere addirittura in grado di lavorare allo stesso modo di Gröning anche un certo dottor Trampla che all'inizio aveva organizzato delle conferenze per Bruno Gröning afferma in seguito di essere a sua volta un guaritore verrà addirittura citato in un giornale con la frase Bruno Gröning è un principiante rispetto a me ma com'è possibile che Gröning finisca sempre con le persone sbagliate perché non si accorge delle loro reali intenzioni è soltanto in buona fede oppure non conosce la natura umana Durante un viaggio dissi a Bruno Gröning le auguro una cosa per il futuro di non avere più nemici e che possa operare indisturbato che nessuno si metta contro di lei allora mi guardò con affetto e mi disse tutto sbagliato oh pensai io che cosa ho detto adesso di così sbagliato e poi disse deve essere così lascio che determinate persone mi si avvicinino che mi si avvicinino anche molto la gente non mi crederebbe se io dicessi in anticipo che quello è un ladro quell'altro un bugiardo e quell'altro ancora un truffatore perciò devo dare a queste persone l'occasione di mentire di truffare e di rubare però gli dico che questo non si fa che l'uomo non deve farlo e poi se a questo punto la persona non si pente e non cambia prima o poi la smaschero poiché alcune persone vicine a Gröning agiscono evidentemente per trarne un profitto sorge la domanda se egli stesso non persegua degli interessi finanziari abbiamo dovuto fronteggiare spesso tale insinuazione e al riguardo posso soltanto dire che egli non aveva assolutamente alcun interesse a fare affari li aveva sempre rifiutati non possedeva denaro anzi usava spesso l'espressione il denaro è il diavolo teneva un atteggiamento negativo nei confronti del denaro e ci era rigorosamente proibito accettare soldi anche se erano destinati a lui ciò che si raccontava di lui era che non disprezzasse un compenso e questo a mio avviso non era giusto in realtà non accettò mai del denaro piuttosto erano coloro che lo circondavano ad essere interessati ai soldi ed è un peccato che sia stato incolpato di fatti che non corrispondevano al vero egli stesso era una persona molto modesta e di poche pretese assistei a un fatto interessante d'un tratto ci mostrò quanti soldi avesse se li cercò addosso e poi mise sul tavolo 37 centesimi questo era tutto ciò che aveva non lo vidi mai accettare dei soldi il denaro era insignificante per lui ciò che per la maggior parte della gente è la cosa più importante della vita per lui era insignificante le semplici leggi della vita quelle erano determinanti per lui era una persona molto semplice e modesta anche per se stesso di poche pretese l'ho conosciuto sempre vestito allo stesso modo un Apollo e pantaloni grigi questo era il suo abbigliamento estivo in inverno indossava anche una giacca grigia nei giorni più freddi ma gli abiti erano sempre gli stessi e soprattutto nel periodo in cui visse qui da me potei anche constatare quanto fosse frugale nel mangiare e nel bere una volta mi raccontò che ovunque andasse le persone pensavano di dovergli servire dei ricchi pranzi mentre a lui non piacevano affatto da come era vestito capì che non poteva aver fatto affari perché se avesse avuto dei soldi si sarebbe di certo comprato qualcos'altro da indossare e invece non vestiva assolutamente in modo elegante indossava sempre dei vecchi stracci ora dico vecchi stracci anche se forse non lo erano in ogni caso non ha mai badato alle apparenze mai non dava affatto l'impressione di preoccuparsi delle cose materiali per se stesso penso che avesse un sacco di ideali non mi ha mai dato l'impressione di essere un uomo che avesse bisogno di attirare la gente e magari di chiedere alle persone di pagare il conto oppure di radunare intorno a sé pazienti facoltosi da smistare chi prendo e chi non prendo niente di tutto questo voleva solamente aiutare le persone non ho mai avuto l'impressione che desse valore al denaro e mia presenza non ha mai giocato il ruolo il fatto che una persona fosse ricca o povera anche io ero povera io ero soltanto un'infermiera ma non mi ha mai fatto sentire meno importante di coloro che erano molto più ricchi di me i soldi non erano mai un argomento eravamo tutti poveri dopo la guerra e mi ricordo ancora quando Bruno Gröning disse a una conferenza se avete due cappotti oppure due camice rivolgendosi agli uomini e arriva una persona povera che ve ne chiede una allora dategliene una varie persone gli lasciavano del denaro da qualche parte ma lui diceva riprendetevi i soldi ma non li riprendevano allora lui raccoglieva tutti i soldi e li infilava nella borsa di una donna si venne a sapere in seguito che questa donna era una povera vedova di guerra che non riusciva a capacitarsi che un gesto del genere fosse ancora possibile al giorno d'oggi sul tavolo c'era una ciotola perché qualcuno aveva pensato come farà Bruno Gröning per andare e tornare dobbiamo fare qualcosa dovrà pur pagare in qualche modo il costo del viaggio quindi avevano messo una ciotola sul tavolo in modo che chiunque volesse potesse lasciare qualcosa però nessuno ha mai chiesto niente chiedere del denaro sarebbe stato certamente contrario alla sua dignità non si adattava a lui è ancora così ai giorni nostri ci sono i ciarlatani o mezzi guaritori spirituali o cose del genere quelli sì chiedono chissà quanto e ci sono coloro che invece possono fare veramente qualcosa ma non chiedono assolutamente niente perché è una legge cosmica chiunque esiga del denaro per il dono che Dio gli ha dato allora perderà la sua forza e il dono gli verrà tolto in quanto non arriva da lui bensì attraverso lui non si facevano assolutamente mai discorsi che riguardavano il denaro non ho neppure mai visto come qualche volta ho sentito raccontare che ci fosse un piatto da qualche parte nel quale si poteva lasciare qualcosa io non l'ho mai visto la stampa ha scritto in seguito che egli avrebbe potuto vivere molto bene con i soldi che riceveva però a me non fu mai chiesto nulla Bruno Gröning ha in continuazione a che fare con i giornalisti che in sostanza non vogliono arrivare alla verità ma vogliono solo scrivere una cronaca sensazionalistica la famiglia Kelna mi mostrò tempo dopo questo chiosco qui e mi disse che il signor Gröning si sedeva molto spesso laggiù al tavolo a lavorare esiste una foto meravigliosa in cui si vede Bruno seduto là in quel chiosco con un cane accanto e ci fu una rivista che usò questa foto per pubblicare un articolo in cui scrisse in sintesi ecco come Bruno Gröning trascorre le vacanze nel sud della Francia in riviera sperperando in questo modo le donazioni dei più poveri fra i poveri mi sentivo così indignata per queste menzogne e queste calunnie e sapevo che tante altre cose che venivano riferite sul suo conto erano altrettanto false fu calunniato sino alla fine ho assistito anche ad altre cose che poi la stampa ha riportato in modo diverso oggi questo chiosco mi ricorda tutto questo spesso l'immagine di Gröning non è soltanto distorta dalla stampa ma anche riprodotta come una caricatura le sue guarigioni vengono ridicolizzate non si evita nessun tipo di diffamazione e calunnia quando mi raccontava delle sue battaglie con la stampa con l'ordine dei medici e così via commentava hanno tentato di mettermi a tacere per sempre non ricordo esattamente le sue parole guardi quassù sulla parete c'erano circa una decina di raccoglitori pieni di riviste l'indicò e disse vede lì ci sono delle recensioni negative su di me ma questo non mi disturba è solo così triste appariva un po' malinconico mentre lo diceva il signor Bealline soffre di una forte depressione da dieci anni e deve assumere spesso il volume inoltre ha continui dolori allo stomaco di origine nervosa riesce a malapena a nutrirsi e soffre di gravi disturbi del sonno durante una conferenza di Bruno Gröning riceve una guarigione spontanea mio marito era molto interessato acquistava e leggeva sempre tutto ciò che veniva scritto su Bruno Gröning e anche io portavo sempre a casa i fascicoli del giornale Welt Amsonabend poi di colpo la stampa assunse un atteggiamento totalmente negativo nei confronti di Bruno Gröning diceva che si trattava solo di suggestione che le persone si erano ammalate di nuovo che non era vero che la gente guariva e mio marito che aveva già ricevuto una guarigione si spaventò molto per l'amor del cielo pensò allora anch'io mi ammalerò di nuovo quell'articolo lo terrorizzò così profondamente che a un certo punto ricominciarono i vecchi disturbi Gröning dice a riguardo questi giornalisti a buon mercato fanno di tutto per guadagnare soldi non gli importa se l'ammalato guarisce o se il guarito conserva o meno la propria salute l'importante è guadagnare una dichiarazione giurata di Karl resa nel 52 evidenzia che alcuni giornalisti non si tirino indietro davanti a niente scrive poiché da qualche tempo mi trovavo in una situazione economica difficile venni esortato da un giornalista un certo Karl Hohmann a pubblicare delle dichiarazioni scritte contro mio fratello mi fu detto che avrei potuto fare un sacco di soldi se avessi rilasciato delle affermazioni in senso negativo da pubblicare con il titolo fratello contro fratello il signor Hohmann mi preannunciò che avrei potuto guadagnare ben 50.000 marchi mi consigliò di raccontare qualunque menzogna in modo da fornire alla stampa del materiale che fosse il più sensazionalistico possibile oggi sono profondamente addolorato che questo sia potuto accadere così come mi rammarico che a causa delle mie precedenti false affermazioni mio fratello Bruno abbia subito gravi danni alla sua reputazione con questo ritiro tutte le false accuse contro mio fratello Bruno posso roboccare? sì grazie quanto ci vuole? abbiamo ordinato almeno mezz'ora fa ma che oggi abbiamo tutto il tempo salute 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 ascolta Fritz hai sentito che fanno un processo al tuo groaning? cosa significa il mio groaning? ero soltanto colpito ti sei fatto fregare da un ciarlatano chi l'avrebbe mai pensato? a me sembrava simpatico beh almeno verrà fuori la truffa l'avevo detto sin dall'inizio che era solo un afferista beh si può anche sbagliare ma non so forse sta subendo un'ingiustizia non è stato provato nulla massimo due o tre mesi sarà dietro le sbarre uno così di certo non va lontano groaning viene accusato di aver esercitato la professione medica senza autorizzazione e di aver pertanto violato la legge sui naturopati le notizie si rincorrono negli anni 51-52 quando si viene a sapere che sarebbe stato sottoposto a processo groaning si rivolge all'avvocato royce che sarà il suo difensore al processo contestualmente viene prodotta una perizia non si ritiene necessario interrogare personalmente groaning e ci si basa esclusivamente sugli articoli pubblicati dalla stampa e sul documento diffamatorio di carl groaning si pronuncia la seguente sentenza si potrebbe considerare groaning una personalità istintiva e per molti tratti infantile con attitudini inferiori alla media appare affetto da un grave disturbo di sviluppo della personalità di tipo neurotico in tutti i casi al momento degli eventi oggetto del presente procedimento groaning mostra una personalità psicologicamente anormale a monaco di baviera groaning deve rispondere per la prima volta davanti a un tribunale del reato di esercizio abusivo della professione medica viene assolto sia in primo sia in secondo grado il 19 marzo del 52 la soluzione è confermata in sede di udienza di appello ma solo sulla base della sussistenza di un errore vale a dire viene riconosciuto a suo favore il fatto che egli non fosse probabilmente a conoscenza di violare la legge sui naturopati sostanzialmente la sua attività di guaritore viene giudicata ai sensi della legge sui naturopati di conseguenza tale assoluzione equivale a un divieto giudiziario di operare guarigioni in tal modo gli vengono definitivamente legate le mani per poter essere finalmente libero di operare Bruno Gröning decide di diventare naturopata contrariamente alle sue precedenti intenzioni il 2 aprile del 53 presenta la domanda di ammissione Eugen Endelin conferma di aver formato egli stesso Gröning come naturopata e pertanto lo considera in grado di svolgere tale professione anche l'associazione regionale dei naturopati di Stoccarda esprime parere positivo confermiamo che su richiesta del signor Gröning sono state esaminate le conoscenze necessarie all'autorizzazione ufficiale per l'esercizio della professione di naturopata riteniamo che tali conoscenze siano sufficienti non sussistono indicazioni contrarie alla sua abilitazione in qualità di naturopata tuttavia la domanda di Gröning viene respinta il 12 agosto del 53 in primo luogo si ritiene che la perizia sia stata eseguita in modo superficiale e si adducono fra l'altro le seguenti motivazioni egli non possiede l'affidabilità etica essenziale all'esercizio professionale della naturopatia per la debolezza delle sue capacità mentali e spirituali il candidato è privo della necessaria idoneità alla pratica professionale l'esercizio della naturopatia da parte del candidato rappresenterebbe un pericolo per la salute pubblica a seguito di ciò il 22 novembre del 53 Gröning fonda la Lega Gröning in futuro vorrà essere solo relatore e viaggerà per tenere conferenze di fede soprattutto ambisce ad operare all'interno di un contesto organizzato e spera di ottenere una certa protezione tramite la Lega lo sostengono personalità note fra le quali il conte Zeppelin il conte Matuschka e la baronessa Annie Ebna von Eschenbach è molto rispettato da tante persone che per gratitudine desiderano aiutarlo nella sua difficile situazione Bruno Gröning è convinto che nessuno potrà proibirgli di tenere conferenze di fede si appella fra l'altro alla libertà di espressione crede di aver finalmente trovato un modo di operare che sia giuridicamente inoppugnabile Gröning fonda le cosiddette comunità ora parla alle persone prevalentemente in contesti più piccoli vuole offrire ai bisognosi di aiuto e di guarigione una possibilità di convincersi del suo insegnamento nella maggior parte dei casi vengono messi a sua disposizione locali privati presto in tutta la Germania si svolgono regolarmente delle riunioni qui avviene l'incontro con la signora Tide di Schleswig che guarisce da una grave forma d'ansia la signora Tide è anche testimone di altre guarigioni entrammo in una grande sala non so quante persone ci fossero all'interno forse 200 250 non ricordo più la sala era piena zeppa Bruno Gröning arrivò e tenne una conferenza poco prima che egli iniziasse a parlare portarono in sala un uomo che non era in grado di camminare da solo lo distesero in fondo alla sala non so quanto durò la conferenza forse un'ora e mezza o due poi al termine Bruno Gröning attraversò la sala e mentre passava per le file chiedeva qua e là alle persone come sta come si sente come va fra gli altri indicò anche me che ero seduta proprio nell'angolo addossata alla parete e mi disse e lei io risposi una volta ho toccato un cavo elettrico che non era protetto e ho preso la scossa proprio come quella che sta attraversando il mio corpo in questo momento durante la conferenza qualcuno disse signor Gröning qui dietro c'è un uomo disteso e lui rispose non dimentico nessuno terminata la conferenza quell'uomo si alzò in piedi andò al bancone del bar e chiese una grappa la sensazionale guarigione di T.I. Spash viene documentata per iscritto la Lega Gröning fa ogni sforzo per raccogliere questi testi che documentano le guarigioni ci sono persone che in questi casi dicono è tutto finto e invece in paese questo signore era conosciuto e all'improvviso si alza e cammina non so da quanto tempo fosse paralizzato era un signore anziano potete immaginare quanto tutti fossero meravigliati di come potesse essere accaduto con il tempo la signora Tide diventa una collaboratrice della Lega Gröning addirittura lo ospita durante i suoi viaggi Gröning viaggia instancabilmente per tenere le sue conferenze di fede dice nonostante tutti gli ostacoli continuerò ad impegnarmi per aiutare i miei amici e coloro che soffrono io non obbedisco all'uomo ma obbedisco a Dio per me non esiste alcuna legge umana che me lo possa proibire per me esiste soltanto una legge ed è la legge di Dio in un'ora di comunità Adolf Groot conosce Bruno Gröning aveva un cancro allo stomaco ed i medici si erano arresi la guerra ci aveva segnato la guerra ci aveva rovinato tutto lì eravamo devastati nell'anima non eravamo persone normali durante la guerra eravamo delle iene le persone normali non riescono ad uccidere gli altri noi invece abbiamo dovuto farlo o tu o io questo non è normale quando la vita appesa un filo si va sempre alla ricerca di qualcosa allo stesso modo quando si è al fronte ogni momento può essere l'ultimo è terribile vivere in quella condizione quindi non c'è da meravigliarsi se ci siamo ammalati se ci siamo distrutti sentimentalmente ero talmente malato da avere già un piede nella fossa volevo aiuto non riescivo nemmeno più a mangiare e venì a sapere dal mio medico di famiglia che avevo il cancro allo stomaco poi andammo alla conferenza non ricordo più come sia accaduto ad ogni modo eravamo più persone è stata una redenzione per noi per tutti i presenti la sala era piena è stata una salvezza per tutti ci siamo sentiti tutti come rinati così leggeri eravamo la pesantezza era uscita dal corpo da quel momento non eravamo più malati non sentivamo più addosso alcuna malattia era passato tutto a casa riuscì a mangiare e la malattia non è più tornata così facile ma è proprio questa la propagazione della forza di Gröning quella che egli irradiava e il corpo veniva ricaricato e quando il flusso la corrente scorre nuovamente libera nel corpo allora tutto può tornare alla normalità chi non vuole crederci lasci perdere ma la mia fede quella nessuno me la può portare via questa è la mia opinione ce l'avevo allora e ce l'ho ancora oggi e mi va bene sono vecchio oppure sto invecchiando come posso dire e questa è la cosa più bella sono felice di essere ancora vivo di essere ancora qui e di essere ancora in buona salute nel 50 Bruno Gröning conosce Josette Dufosset che lo accompagna sempre più spesso e lo sostiene nel suo lavoro si avvicinano sempre di più e si sposano nel giugno del 55 Gröning pone tuttavia al suo matrimonio una condizione insolita mi disse tu non sei al primo posto nella mia vita prima vengono gli ammalati e sai quello che devi fare o vai via oppure rimani e lo accetti e gli dissi che sarei rimasta perciò condivisi la mia vita con gli ammalati mi sono sintonizzata sì anch'io ho fatto Einstein per me era quello il mio destino viaggiavamo viaggiavamo tantissimo e spesso la sera incontravamo conoscenti o amici un intero circolo di amici tutti volevano stargli accanto perché sentivano che tramite lui avveniva nel loro corpo un cambiamento e un miglioramento per cui volevano sempre stare vicino a lui Immer wollte sie e dai insani di amici Quando veniva una donna oppure un uomo e dicevano signor Gröning mi fa male qua Allora lui si voltava e diceva Dove sente dolore? Non ce l'ho più Era così, il dolore scompariva E loro guardavano stupiti Questa cosa succedeva spesso Signor Gröning mi aiuti, la schiena, la schiena Dove? Qua dietro? No ma io... All'improvviso Il dolore spariva Ed egli non domandava mai Chi è lei, da dove viene Sta così, oppure cos'ha Ha fatto questo, quell'altro Mai Si voltava e andava via E io sempre appresso a lui Oh si E' un'improvviso a lui 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 Lui veniva dal suo cuore E questo non significava affatto che fosse stupido Bensì piuttosto che fosse saggio Era in grado di dire cose fondamentali con parole semplici Lo sottolineo sempre Usava parole semplici in modo che tutti potessero capire Era questo che contava C'era una ciotola sul tavolo Che era rivolta verso il basso Egli la prese La girò con l'apertura verso l'alto E disse E' così che dovete disporvi Non viceversa Solamente quando ci si apre Si può accogliere qualcosa Si può ricevere Altrimenti non è possibile Questa è stata la mia esperienza Dalla signora Dichtel Usava molto la simbologia Era tutto semplice con lui Capisce? Era questa la sua grandezza La sua semplicità era anche la sua grandezza Che egli ne fosse consapevole o meno Rendeva tutto semplice Questo era il bello di lui Non si è mai vantato o cose simili No, io non l'ho mai sentito Era come si suol dire Di ceto basso Appariva così Ma anche Gesù Era un falegname Cosa vuol dire? Non si misura così la personalità Voglio essere un punto di riferimento per le persone E indicare loro la via giusta da seguire La via che conduce a Dio Voglio riportare le persone alla fede Non chiedo a nessuno a quale religione o nazione appartenga Un uomo è un uomo Non c'è alcuna differenza Sono sempre stato credente Anche prima di conoscere Bruno Gröning Lui non mi ha condotto su una strada diversa Ha solo rafforzato la fede che avevo già da prima Se si crede veramente Non c'è nulla di nuovo in ciò che Bruno Gröning ha detto La differenza è che nessuno prima me lo aveva insegnato Con la stessa intensità con cui me lo ha insegnato lui Esistono luoghi di pellegrinaggio E luoghi in cui si trovano reliquie O dove qualcuno è stato canonizzato E ci sono persone che si sono recate in quei luoghi E ne sono tornate guarite Per me era chiaro che queste cose esistessero Quello che però non sapevo Era che Bruno Gröning potesse portare la stessa forza nelle nostre case E invece proprio questo ci ha mostrato Bruno Gröning si spiega agli altri così Non so molto So solo quello che le persone oggi non sanno più Voglio essere solamente un indicatore Sono soltanto un piccolissimo strumento di Dio Per favore non dite mai che sono stato io a guarirvi No Io sono soltanto un piccolo intermediario Nient'altro Un minuscolo trasformatore Chi ha ricevuto aiuto deve ringraziare il Signore Io non sono niente Dio è tutto Non è necessario che io sia presente affinché voi riceviate l'onda guaritrice Non dipende dal mio corpo Fummo invitati da alcuni nostri amici Sapevo solo che c'era un guaritore E che eravamo stati invitati E che eravamo stati invitati Lo trovai molto bello E così ci andammo Giunsi con fortissimi dolori allo stomaco Poiché da anni soffrivo di mal di stomaco Ci sedemmo in questa bellissima stanza dove c'erano circa 15 o 18 persone Tutti conoscenti del barone Napurov e di sua moglie E aspettammo Gröning Lo aspettammo piuttosto a lungo perché era in ritardo Dopo circa un'ora squillò il telefono e la baronessa uscì dalla stanza Dopodiché rientrò e disse Bruno Gröning è arrivato a Monaco ed è già in questa stanza con il pensiero Ci raggiungerà fra un paio di minuti A quel punto divennero tutti molto ansiosi La tensione si poteva percepire E dopo qualche minuto mi resi conto Che il mal di stomaco era sparito Da anni soffrivo di fortissimi dolori allo stomaco Quasi tutti i giorni E soffrivo inoltre di terribili mal di testa Tutto di origine nervosa Sì, il mal di stomaco scomparve prima che Gröning entrasse nella stanza All'improvviso vedi una figura sulla porta Non l'avevo sentito entrare nella stanza Ero già guarita E da allora non ho mai più avuto mal di stomaco Dopo circa un'ora il processo di guarigione terminò Gröning andò nella stanza accanto E a quel punto la mia amica si avvicinò e mi chiese Come ti senti adesso? Io ero molto stanca e avevo anche un forte mal di testa Quindi lei mi disse Allora vai nella stanza accanto e distenditi sul divano Lei rimase nella stanza Io feci così come mi aveva detto E vedi Gröning che sedeva con altre due persone dietro un paravento Allora mi misi là E dopo pochissimo D'un tratto si alzò Era in piedi accanto a me e disse Come si sente? E io gli risposi Ho un terribile mal di testa Allora egli disse In questi casi faccio sempre così Stava in piedi Più o meno all'altezza delle mie gambe E disse In questi casi faccio sempre così Poi mi domandò E adesso? Come si sente adesso? Io dissi Prima di tutto devo alzarmi Mi raddrizzai E scossi un pochino la testa In questo modo Il mal di testa non c'era più Soffrivo moltissimo Di mal di testa o emicranie Da allora non ne ho più avute Mia madre Che da tempo era molto malata Soffriva di asma E aveva delle piaghe aperte sulle gambe Una volta venne a sapere da qualcuno Che sarebbe arrivato ad essere Un certo signor Gröning E che quest'uomo avrebbe potuto aiutare anche lei Si recò da lui Una o due volte Non mi ricordo più quante volte E all'improvviso Tornò a casa guarita Si soffrivo di un asma molto grave Era asma cardiaca Nervosa e bronchiale Andavo sempre dal mio medico E avevo anche cambiato Più di un medico Ma nessuno riusciva a farla passare O a liberarmene E io stavo malissimo Mio marito dice che erano sette anni Che ne soffrivo Io non mi ricordo più Erano forse quattro o cinque o sei anni Che avevo attacchi di soffocamento Dovevo prendere dei medicinali fortissimi Che non mi facevano alcun effetto Mi sentivo sempre soffocare Avevo questi attacchi terribili Mio marito non può che confermarlo Correvo da una finestra all'altra Nel tentativo di prendere aria Ed era tremendo Non riuscivo a respirare Era come se la mia gola Si stringesse Era brutto Talmente brutto Che non riesco a spiegare a nessuno Quello che ho passato Quando andai da Bruno Gröning Avverti immediatamente Che qualcosa scorreva In tutto il corpo Stava succedendo qualcosa E mi senti subito molto bene Quando mi accommiatai Egli mi disse Rimanga così com'è Adesso Quando tornerà a casa Le sembrerà di stare peggio di prima È così che avviene la reazione Ma poi ogni cosa tornerà di nuovo in ordine E fu così Tornai a casa E mi sedetti sulla mia grande poltrona di pelle Ma stavo come prima E non riuscivo a dormire I dolori si ripresentarono talmente forti Che gridai a mio marito Adesso sto ancora peggio Ma poi finì All'improvviso finì tutto E da quel momento Sono stata bene Durante tutti gli anni a venire Per tutti questi anni Tanti anni Non ho mai più sofferto di asma Anche la testimonianza Della signora Willems È messa per iscritto Ha confermato sotto giuramento Ciò che ha sperimentato Sul proprio corpo Ad un medico di Duesburg Questo era piaciuto Disse che era avvenuto qualcosa Che non era umanamente possibile E che diversamente Non sarei mai guarita Mi disse che dovevo ringraziare Il signor Gröning E Dio per questo Ciò che succede Alla signora Willems Si riscontra anche Nell'omeopatia Cioè un aggravamento Dei sintomi Prima della guarigione Gröning lo spiega così Se sentite qua e là Dei dolori Non vi spaventate Perché si tratta Di dolori di riaggiustamento Dove nel corpo Le cose non sono in ordine La salute si fa strada In questo modo E lavora fino a che L'organo malato Torna nuovamente in ordine Quando andai da Bruno Gröning La prima volta Ci sedemmo proprio Nell'ultima fila Perché in qualche modo Avevo paura di lui Un guaritore miracoloso O chissà chi Non lo guardai nemmeno direttamente Perché pensavo Che i suoi occhi Potessero ipnotizzarmi Poi Quando mi fui accomodata Egli disse a tutti Di sedere in modo rilassato E non contratti E di concentrarci Su noi stessi E in questo modo Egli avrebbe visto E sentito empaticamente I nostri problemi E le nostre richieste Quindi anche io Feci così E pensai Se solo mi potesse aiutare A perdere un po' di peso Mi concentrai E vissi intensamente Questo pensiero Proprio come aveva detto lui Tutto rimase Totalmente tranquillo Per qualche minuto Gröning Era silenzioso E anche tutti noi E da quella sera Persi davvero qualche grammo al giorno A 17 anni Pesavo 80 chili E dopo due anni A 19 anni Ne pesavo solamente 60 Quindi in due anni Persi circa 20 chili Senza seguire alcuna dieta Senza mangiare né di più Né di meno Anzi Dopo un anno Quando mia madre Si accorse Che stavo dimagrendo Iniziò a spalmarmi Una quantità maggiore Di burro sul pane Pensando che fossi malata Mi mandò anche dal medico Ma il medico disse Che era solo un vantaggio Aver perso del peso Naturalmente a lui Non dissi Che ero stata Da quel guaritore Miracoloso Gröning Vi pare Ma dentro di me Sono sempre stata convinta Che egli mi abbia Veramente aiutato La prima volta Che mi recai Ad un incontro Con Bruno Gröning Ero molto scettica Per me La cosa più importante Era che non volevo Essere ipnotizzata Da lui Né essere suggestionata Quando si tratta Di poteri mentali Bisogna fare Molta attenzione Avevo già avuto Un'esperienza Qualche anno prima Durante una manifestazione pubblica Ero andata sul palco Ed ero stata ipnotizzata In seguito Avevo sofferto Per lungo tempo Di mal di testa E da quella volta Avevo giurato A me stessa Mai più Quando invece Sperimentai Lo Heilstrom Durante quell'incontro Mi resi conto Che era qualcosa Di completamente diverso E che non aveva Niente a che fare Con l'ipnosi L'ipnosi è una forza Suggestiva Che egli Non aveva Egli inviava Una vibrazione guaritrice Ma non del tipo Tu devi Come succede Invece con l'ipnosi No, no, no Non aveva Proprio niente a che fare Con questo Era assolutamente Contrario all'ipnosi No Assolutamente No Mai No Diceva che non si deve Togliere la volontà Alle persone No Mai Con lui bisognava Sempre solo sentire Si doveva solo sentire Si Dice Bruno Gröning L'ipnosi è il male Nessuno la deve praticare Io non esercito Alcuna suggestione Ciascuno possiede Il libero arbitrio L'esempio della signora Dilla È molto chiaro Una volta Sperimentai qualcosa Di molto impressionante Mi trovavo con un'amica Nello stesso appartamento Ed ero sola con lei Chiacchieravamo E giocavamo a carte Tutto molto serenamente Era una giornata Molto calda D'un tratto Squillò il telefono E lei uscì Chiudendo le porte Quindi Non sentì cosa diceva E aspettai che tornasse Senza pensare a niente Mi sentivo Anche un po' stanca All'improvviso avvertì Un leggero formicolio Alle piante dei piedi Lo sentì risalire Sempre di più Molto lentamente Allora pensai Che cosa succede? Bruno Gröning Non è qui Questa sensazione Proseguì Mi attraverso Tutto il corpo Sino alle mani Le braccia E le mani Non riuscivo più A stringere le carte Che tenevo a ventaglio Così le posai Mi sentivo piena di corrente La sentivo forte Come non mai E allora pensai Ma cosa succede? Dopo un po' Si aprì la porta La mia amica Tornò nella stanza E disse Tanti saluti Da Bruno Gröning Ha appena chiamato E ti manda i suoi saluti Non avevo minimamente pensato Che potesse essere Gröning Al telefono Ho sperimentato Diverse guarigioni Del tutto particolari Eravamo a Klagenfurt E una volta dissi Purtroppo adesso devo salutarvi Oggi ho il turno di notte Allora egli disse Sì L'accompagno Così scese insieme a me I due piani di scale Sino alla strada E io non avvertivo La sensazione Di toccare i gradini Mi sentivo Molto leggera Quando arrivamo giù Mi prese entrambe le mani Nelle sue E mi disse Infermiera Maria Oggi le do molto Da portare con sé E io lo ringraziai Per questo Ne fui molto felice Quindi Mi recai in ospedale Nel reparto In cui dovevo prestare servizio Mi venne incontro Una paziente Che era ricoverata là Io le presi Entrambe le mani Nelle mie E lei disse Mio Dio Mi sento così felice Mio Dio Adesso mi sento Così felice Doveva essere operata Il giorno dopo E io dovevo Prepararla per l'intervento Ma lei continuava a ripetere Sono così felice Allora io le dissi Vada dal primario E gli chieda Se per favore Può visitarla ancora una volta Prima dell'operazione E il primario Le fece la visita Quindi chiamò il caporeparto E il giorno dopo La paziente Poté tornare a casa Completamente sana Aveva un tumore Ma ora non c'era più Un altro segnale Che Gröning Non fa uso di ipnosi È la sua influenza Sugli animali Avevo un barboncino Si chiamava Baby Ed era molto ammalato Avevamo già consultato Diversi veterinari Ma non avevano potuto Fare niente per lui E si erano arresi Allora alcuni conoscenti Ci dissero che dovevamo Chiamare Gröning Che lui lo avrebbe aiutato E così feci Mi disse al telefono Lei sta tenendo la cornetta Con la mano sinistra E infatti era così Quando non avrà più La cornetta in mano Accarezzi con quella mano Tre volte il suo cane Dalla testa Sino alla coda E guarirà All'inizio vomiterà molto E avrà la diarrea Sarà molto debole Ma poi guarirà completamente Mi disse Andò proprio così Aveva la leptospirosi Per la quale a quel tempo Non esistevano ancora le cure Ma Gröning Lo guarì lo stesso Bruno Gröning ha uno stretto legame Con gli animali E la natura Dice L'uomo si è talmente allontanato Con la sua arte Il suo sapere Il suo potere Da credere veramente Di essere nella posizione Di distruggere tutto ciò che è naturale Chiunque creda di potersi Sottrarre alla natura Che il Signore Dio ha creato In modo tanto bello Per noi esseri umani Costui va da dove vuole Ecco dove sta l'errore Ecco dove sta tutto Ecco cosa manca all'uomo La natura Tornate alla natura Tornate al nostro Signore Dio Tornate a credere Nel nostro Signore Dio E tornate a credere Nel bene che c'è dentro l'uomo Noi uomini siamo nulla Senza il nostro Signore Dio Noi tutti siamo E rimaniamo figli di Dio L'unico Padre che abbiamo È e rimane Il nostro Signore e Dio Il nostro Signore Dio Il nostro Signore Dio